Il sindaco di Santa Margherita, Gasper Eviola, ha disposto alla chiusura immediata del discusso comitato elettorale di Fratelli d'Italia, quello inaugurato la scorsa settimana in piazza Matteotti dalla consigliera Deborah Ciaccio, all'interno di un immobile che per un quarto era stato oggetto di confisca alla criminalità organizzata nell'ambito delle misure adottate nei confronti di Pasquale Ciaccio, zio della consigliera comunale coinvolto nell'operazione antimafia Scacco Matto del 2008 e per questo fatto condannato dall'autorità giudiziaria a 12 anni e 8 mesi, pena da lui completamente scontata. L'utilizzo come sede elettorale di un partito politico, scrive il primo cittadino nel suo provvedimento, contrasta con la destinazione ai fini sociali e la predetta diversa utilizzazione non è stata mai autorizzata dal Comune, una vicenda che ha fatto discutere soprattutto in ordine alla opportunità che un immobile sottoposto a provvedimento dell'Agenzia Nazionale per la destinazione dei beni sequestrati, ancorché solo per la quota parte di proprietà di un condannato per mafia, gli altri tre fratelli tra cui il padre della consigliera Deborah Ciaccio sono sempre stati e continuano ad essere legittimi proprietari del restante 75%, potesse essere destinato ad una sede politica. La stessa associazione libera di Donciotte aveva definito inopportuna la precedente decisione di aprire un comitato elettorale proprio in quell'immobile e inevitabilmente, ci si stupisce del fatto che ci si stupisca, la vicenda era finita anche sui giornali, fatto quest'ultimo che aveva scatenato le ire della stessa consigliera Deborah Ciaccio, che aveva parlato di attacchi in mala fede contro di lei, ritenendo vergognoso di dover pagare colpe non sue, rivendicando anche che l'apertura del comitato di Fratelli d'Italia in quell'immobile fosse avvenuta nei locali, nella disponibilità degli altri tre proprietari e non nella stanza chiusa, riconducibile invece allo zio Pasquale. Consigliera Deborah Ciaccio a cui sono arrivati nel frattempo anche gli attestati di solidarietà della nuova democrazia cristiana, più recentemente del capogruppo Onorio di Giovanna e del resto del gruppo di maggioranza, del quale anche Deborah Ciaccio fa parte, essendovi stata eletta alle ultime amministrative insieme al sindaco Gaspare Viola. Gruppo di maggioranza che sulla questione del comitato di Fratelli d'Italia di Piazza Matteotti parla di accuse e l'azione offese contro Deborah Ciaccio, a cui viene manifestata totale solidarietà prendendo le distanze, si legge nel documento, da ogni concetto, ragionamento di intenti a screditare e offenderne l'immagine. La chiusura ordinata dal sindaco Viola, a cui, stando a quanto si apprende la stessa prefettura, nei giorni scorsi avrebbe chiesto chiarimenti sull'apertura del comitato elettorale di Fratelli d'Italia in quell'immobile, dovrebbe adesso aver chiuso il caso.